Grazie a tutti i nostri microfoni, due grandi donne, Alfonsina e Geltrude, hanno sposato una grande causa, aiutare Frida, aiutare a comprare quattro materassi e poi domani avremo in seguito e che dire, hanno ricordato due grandi artisti, Pino Daniele e Massimo Tronisi. Alfonsina, raccontaci la serata, com'è andata? Un sogno, io sto sognando, temo di svegliarmi, quindi voglio che davvero nessuno osi svegliarmi perché è bellissimo, in cinque anni nessuno ha fatto quello che avete fatto voi e che ha fatto Geltrude per noi stasera, grazie anche al Pab il Moro. Sono stati raccolti bei soldini che ci aiuteranno sicuramente a pagare il fitto e a cominciare a dare vita a un progetto che ci sta molto al cuore, quindi i soldi sono stati ben spesi, cercheremo di utilizzarli al meglio e niente, non ho parole davvero, mi viene grazie ma è proprio riduttivo, è proprio poco, Potei vorrei avere braccia lunghissime per abbracciarvi tutti, davvero, sono molto commossa. Allora, adesso sentiamo invece Gertrude, Gertrude ti si legge ancora l'emozione negli occhi, raccontaci. Gerardino è stata un'emozione bellissima, è una serata di beneficenza, veramente ti riempie il cuore e stasera il cuore dei Cavesi, il cuore degli nostri amici Cavesi è stato veramente grande, sono contentissima, contentissima, emozionata, sono contenta che Alfontina, Frida riesce questo mese a far fronte alle spese, con un nostro piccolo contributo che non è stato proprio piccolo, 525 euro mai visti come mi suggerisce Alfontina in 5 anni, quindi sono contenta. E diciamocelo pure, a questo punto ci sta bene tutto, volere e potere e come sempre siamo una grande forza se ci uniamo tutti in mano, nella mano. A me piace, andate. Ciao Ba정이, subito. A me piace, andate. Grazie a tutti.